Buongiorno 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 Ah si, c'è uno scalino lì Imparalo subito Potrebbe essere ventile per un tiro a palobella zwonite Oh Ah Allora dati ora E Oppinä off … … Grazie. Grazie. Appunto. Sì, ragazzi. 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 Puoi mettere qua o qua? Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. C'è una figlia che ci guardava. Eh? Eh? In mezzo. Sì, sì. Sì, sì. Deve essere nuovo. A qualche periodo di pausa. Già. Volevo cambiare gli occhiali. Sì. No, è tra l'altro e le seconda. Vieni. Vieni dove siete. Eh? Non ci vedo. Sì, grande schermo. All'angela. Vieni qua. Vieni qua. Arriva con l'azzo! Arriva! 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 Quattro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.